Ecco, vediamo Paolino Corranz che sta annullando la sua bocca da squadra, le sue stelle gialle. Vedete quanti piccoli, vedete quanti libri che hanno fatto posto loro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. è difficilissima da fare con Ransky perché ha pochissima potenza e bisogna dosare attentamente il carico sulle mani bravo Paolo, una bella pioggia per i lupi rovesio perfetto, adesso questo è qua, con questa serie di tendenza non è ancora un po' di lupi rovesio non è ancora un po' di lupi rovesio non è ancora un po' di lupi rovesio guardate, guardate le mani, guardate la bravura guardate, guardate, una scampanata, perfetta, perfetta vi assicuro che un vento così lo tiene, è efficissimo bello purtroppo mettere il r橋mo il fatto di tornare grazie per tenere sotto controllo gli altri traffici per capire il cittadino ed è sicuro che non è un'altra faccia di fare un dispoio climatico con del traffico che opera sulla biosuperficia quindi probabilmente finti sui traffici che operano per noi che operano a suo passaggio non è come oggi forse adesso il governo che si sta passando vediamo non mi sembra da vedere che in questa pista appena trovare un altro non trovare un altro strumento che si è passato ovviamente ora la città è completamente diversa molto più bassa dello Sli ma siamo, come ho detto, su 75 livelli con 200 km e questo è un'altra dimensione 4 volte tanto ecco un bel applauso bravo Paolo bravissima vi assicuro che tenere su un aereo in quelle condizioni ci da una sostenibilità di mano mettendo vediamo il ciclamento la 01 di nuovo inviata in base alla 01 ecco eccolo sui bracci di mano un passaggio in velocità se tu ci si può parlare a fare un gas e un bel camion bellissimo vedete che va vedete che va guardate guardate che posizia un buono pilota molto bravo molto bravo è capace di fare un camion come un bicchiere sul topi senza riuscire quello che ha il bicchiere ma sono pochissime che sono capace di fare una cosa di prima adesso un saluto quando mi dico aereo che sto a creare non fanno tutti i suoi compro oppure sei andato a volare a tornare non non è ート eccolo eh che volete è protetone e quindi a sinistra lì allo canzio l'arrivo o meglio, normalmente quello del donato c'è la sinistra e a sinistra l'ora più grande invece tutte condizioni in circuito è la destra come qua, lo vediamo, adesso lo vediamo sul terra c'è un po' molto fortissimo per l'ora un po' molto fattibile guardate che guardate, sono in equilibrio perfetto, perfetto, perfetto veramente non si riesce a vedere la pista